Salute respiratoria e ambiente, un binomio inscindibile. Ecco perché AIPO, Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, all'interno del 24esimo Congresso Nazionale della Pneumologia Italiana, ha organizzato dal 9 all'11 giugno presso la Fiera del Levante di Bari un convegno dal titolo Pneumologica 2023, l'illuminismo della pneumologia per la salute respiratoria. A Roma, all'interno del Ministero della Salute, la conferenza stampa di presentazione dell'evento. L'Aipo è un'importante società scientifica, oltre 1700 gli associati che ne fanno parte, tra gli obiettivi ovviamente la prevenzione, da qui ovviamente la tematica di questo convegno che vuole anche evidenziare l'importanza dell'ambiente. Assolutamente sì, l'ambiente è fondamentale, la salute respiratoria è in stretto collegamento con la salute ambientale. Respirare bene vuol dire evitare rischi di inquinamento che poi si trasforma in malattia respiratoria. Per questo motivo Aipo insieme ai colleghi di SIP ha fatto un bel progetto per cui l'anno scorso abbiamo piantumato 150 alberi a Catania tramite la SIP e quest'anno 150 Bari tramite Aipo. La pneumologia è sicuramente cambiata dopo il Covid, che cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato a gestire i nostri pazienti anche in telepneumologia. Durante il Covid molti reparti erano completamente chiusi ma non potevamo abbandonare i pazienti per cui abbiamo cominciato prima con telefonate, Skype, Whatsapp, quel che poteva capitare in quel momento. Però ci siamo strutturati, strutturati per seguire il paziente al domicilio e quando possibile ovviamente ed evitare un accesso inutile in ospedale o in ambulatorio. Una lezione positiva che abbiamo tratto tutti sicuramente dal Covid è quello di poter riuscire anche a monitorare a domicilio molti pazienti, soprattutto quelli più gravi. Sembra un termine improprio ma effettivamente dal Covid ci può anche essere qualche lezione positiva, in particolare per quanto riguarda la telemedicina. Noi abbiamo pazienti in ossigenoterapia, in ventiloterapia per i quali un controllo da remoto diventa fondamentale. Dobbiamo poi considerare che alla luce del nuovo decreto ministeriale, nelle case della salute è previsto l'uso di una serie di strumentazioni, tra cui per quanto riguarda noi lo spirometro, alla quale i centri specialistici potrebbero anche dare una refertazione da remoto e anche la consulenza del pneumologo direttamente nelle case della salute. Secondo voi attualmente la rete per poter permettere di attuare la telemedicina è così ramificata da poter in qualche maniera sopportare i pazienti? È da costruire. Telemedicina non vuol dire semplicemente rispondere a una telefonata oppure vedere paziente a video ma pure avere un controllo delle strumentazioni che loro usano. Credo che sia una grande sfida per la pneumologia. Il decreto ministeriale ci dà questa possibilità però questa rete è da costruire e soprattutto da costruire il nostro rapporto con i colleghi della medicina generale sul territorio. Tra i punti di forza del PNRR c'è sicuramente una maggiore attenzione alla territorialità, alle case di comunità. Il governo però deve necessariamente monitorare lo svolgimento di tutto questo perché ci sono zone d'Italia in cui ovviamente è più radicato, altre invece in cui la rete è completamente da costruire. Sì, il PNRR nella misura 6 prevede 1350 case di comunità, 605 cot, centro operativi territoriali, 400 ospedali di comunità. È una rete che può rendere prossimità e quindi sanità territoriale. Durante il Covid abbiamo assistito sostanzialmente al falimento della sanità territoriale, probabilmente secondo me a seguito del DM70 del 2015 che ha portato una visione ospedalocentrica ma parallelamente non c'è stato con la chiusura e la razionalizzazione in realtà di diversi ospedali ma non è stato attrezzato il territorio. Con il PNRR si vuol colmare questo gap, questa mancanza e quindi colmare ciò che lei opportunamente ricordava, cioè l'esistenza a macchia di leopardo nell'Italia di zone in cui vi è assistenza territoriale e altre zone, segnatamente quelle meridionali, in cui non vi è assistenza territoriale. Noi speriamo che mettendo come si vuol dire a terra il PNRR si possa colmare questa divisione, quindi questa sperequazione, perequandola e cercando di ottemperare a quello che l'articolo 32 della nostra Costituzione è lecita. Sicuramente tra i fattori di rischio per chi soffre di patologie legate all'apparato respiratorio c'è anche l'inquinamento che è uno dei motivi fondamentali anche del congresso realizzato. Che cosa intendete fare come Ministero della Salute per cercare di tutelare la salute attraverso anche una tutela dell'ambiente? Sì, ormai penso che sia patrimonio comune della comunità scientifica un approccio olistico, si dice One Health, alla sanità, quindi sanità animale, sanità umana e sanità diciamo comunque benessere legato appunto all'ambiente che costituiscono un unicum e corrono insieme. Ora sicuramente gli sforzi sono tanti, sono sforzi privati. Plaudio Allaipo che per esempio a Bari non più tardi di qualche settimana fa ha piantumato 150 alberi in un parco, un'iniziativa privata simbolica che leva appunto ciò che le diceva, l'importanza della tutela dell'ambiente. Ciò che si può fare è sotto gli occhi di tutti, tutti, sostanzialmente mirare ad una nuova politica di governo che non guardi con approccio ideologico alla sanità, che non guardi con approccio ideologico alla ecologia ma che sappia costituirne un unicum al centro del quale c'è il cittadino e la salute e quindi sappia rilanciare nuovi modelli organizzativi. All'interno di Aipo sicuramente un settore molto importante è quella che lega ovviamente l'associazione all'industria, da cui poi scaturiscono non solo le fasi congressuali ma anche un'ampia fetta di tutto ciò che poi va destinato alla ricerca. Sì, è vero la relazione tra la società scientifica e l'industria, l'industria del farmaco, l'industria degli elettromedicali, delle tecnologie, è una relazione importante che serve sia alla crescita della società sia allo sviluppo di nuove conoscenze. Questa relazione noi la garantiamo attraverso una terza parte, una società di servizi evidentemente che nel nostro modello si frappone tra l'organizzazione scientifica vera e propria di Aipo e la relazione con l'industria privata sostanzialmente, facilitando la ricerca scientifica in termini di sviluppo di nuove molecole ma anche facilitando l'apporto della società allo sviluppo di nuove tecnologie. Da un lato c'è un'organizzazione importante che è data dalla società scientifica, dall'altro c'è un linguaggio dell'industria che spesso deve essere garantito affinché le due realtà si incontrino per raggiungere obiettivi comuni in maniera soddisfacente per tutti e trasparente. Si parla spesso di telemedicina, si parla ovviamente di supportare sempre più i malati con una certa cronicità ma è importante e fondamentale sentire ovviamente la testimonianza dei malati che vivono quotidianamente la patologia e quindi sanno punti di forza e punti di debolezza su cui in qualche maniera intervenire. Sì, effettivamente la telemedicina soprattutto durante il covid e subito dopo il covid ha dimostrato quanto può essere a supporto sia della classe medica ma anche del paziente. Questo però non deve andare a sostituire quello che è il contatto necessario che ci deve essere tra il medico ed il paziente. La telemedicina deve essere a supporto perché in alcune fasi della malattia aiuta ma in altre fasi della malattia e di gestione proprio della patologia comunque il rapporto tra medico e paziente che è un rapporto basato sulla fiducia, sulla comunicazione, sullo scambio continuo di informazione è necessario che avvenga attraverso la classica visita. Indubbiamente però la telemedicina, il teleconsulto, la televisita supportano e aiutano le persone ma anche ad avere dei punti di contatto con il proprio medico.